Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. E ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese da un'idea di Gonagai, il Mazinga Z, edizione a Shet, uscita numero 21, altezza del solo Mazinga 75 cm, completo del Centro di Cerche Fotoatomiche, dove sul punto più alto avremo un'altezza di 90 cm. Andiamo subito a vedere quello che troviamo. Ecco qui. E la riproposizione di quello che abbiamo montato nel braccio sinistro. Abbiamo queste due parti metalliche del braccio in zinco pressofuso. Questo che è il tubo lanciamissili in policarbonato. Tre serie di viti, due sono qui immischiate ma non vi potete sbagliare. Le più piccole sono le 021, anzi non usiamo lo 021 davanti. classifichiamole solo con i due numeri finali, volendo anche soltanto uno. Comunque, le più piccole sono 09 e quelle più grandi sono 08, mentre queste sono le 07. queste sono le rampe dei missili in stirene ad alta resistenza, dovrete averne 6, e questa, e non è nient'altro che questo, anzi, il giunto sferico del tubo lanciamissili, sempre in policarbonato. E poi abbiamo anche questo, che sono le bocche d'uscita dei missili, policarbonato anche questo. Bene, andiamo subito a fare un lavoro. Io prendo la vite più lunga, una è data in più, vi do un consiglio, per le viti che avanzate, andatevi a mettere la sigla, in questo caso 021 trattino 07, e le chiudete. Questa va avvitata qui, vediamo se è il caso di tirarmi il filetto o, oppure no, no, possiamo anche direttamente avvitarla poi sul giunto. Ok, facciamola solo così. Iniziamo. Qui abbiamo le due metà, prendiamo questa che ha questo intaglio, bene, andiamo a prendere la parte, non questa che ha le due parti qua che è sporco, ma questa. Andiamo a metterla così. Ecco. Dovete scusarmi, ma io guardo le istruzioni, guardo attraverso il telefonino, e vi garantisco che un fatto è montare un qualcosa con il pezzo davanti agli occhi, e un altro è quello di guardare attraverso il telefonino, per cercare di non uscire mai dall'inquadratura. Non è semplice, ve lo garantisco. Poi, prendiamo questo così, e lo andiamo a mettere qui. No, non può andare così. Fatemi dare un'occhiata. Eh sì, è giusto, perché non può andare così. È giusto così. Vedevo questo in taglio qua, ho detto deve andare qua dentro, ma lì c'è il posto per la boccola. Poi prendiamo la boccola, andiamo a metterla così. Ecco qui. Prendiamo l'altro pezzo. Ecco qui. E andiamo a mettere quattro viti, le 0,9, che sono le più corte. Sto cercando un cacciavite con la punta più piccola, un attimo. Ce l'ho, eh? Me lo sono messo da parte, ma ogni volta che mi metto qualcosa da parte, sistematicamente non la trovo. Un attimo, metto in pausa il video, e lo cerco. andiamo a fissarci il pezzo. qui non serve a creare il filetto perché è già esistente. e lo cerco. Quanto è bello questo Mazinga Z. Possiamo stringere. Questo ruota bene. ok. Ma se vi ricordate, nell'altro io, con una piccola lima, lo faccio subito, se riesco. Eccola qui. ripeto, non ci dobbiamo giocare, ma con una piccola lima vado a fare questo lavoro qua, come ho fatto nell'altro che abbiamo montato. se voi mi seguite, sapete perché lo sto facendo. ecco fatto, infatti adesso non tocca più. E lo devo fare però anche su questi qua, sotto. Soprattutto su questo, forse questo davantino. ecco qui. Lo spiego per quelli che mi vedono per la prima volta e anche per quelli che mandano avanti i video veloci e poi mi fanno le domande. quando fate questo lavoro, questo pezzo qui che tocca la vernice, basta solo una volta o due che lo fate e vi rovina tutta la vernice qua sotto, questa. Così invece non succede più. Perché ho reso un po' di scivolo qua. Vi faccio vedere. Qua non toccava. e adesso non tocca più. Altrimenti vi rovina tutta la vernice qui. Anche se non ci dobbiamo giocare, ma basta magari anche solo provarlo e può capitare. Controllo che tutto sia scritto bene. Perfetto. A questo punto mi rimane che mettere questo. Ecco qua. E prendo le viti 0,8 che sono le medie. me ne servono quattro. Poi alla fine di questo montaggio prendo tutto quello che ho montato fino al numero 21 e poi ci salutiamo. tirate al contrario il cacciavite perché le sedie delle viti sono già filettate. Quando sentite il clac vuol dire che la vite ha preso perfettamente il filetto. Così facendo non correte rischi di correre alcun danno. Avete sentito? controllate perché anche se ci sono le sedie non è detto che il pezzo se non controllato si è avviti diritto non è detto vi faccio vedere ecco guardate vedete qua c'è il gradino e qui ovviamente esce spero si veda quindi questo va fatto così guardate eccolo lì ed è lì che dobbiamo stringere mi raccomando controllate tutto non abbiate mai fretta di montare mai perfetto questo è a posto adesso andiamo a montare la rampa dei missili perforanti il montaggio è molto semplice prendiamo queste sei alette guardate solo che non abbiano sfridi di lavorazione quindi difetti altrimenti è andata ad eliminare troverete probabilmente dove ci sono i punti dove c'è l'iniezione della plastica perfetto e andiamo a metterlo semplicemente così uno per in questa maniera questa parte entrerà qui in questo spazio e questa parte iniziale qui dovrà andare qui vedete tutto deve essere perfettamente simmetrico alla fine identico se vedete che ci sono delle inclinazioni differenti avete sbagliato a montarlo e guardate che sbagliare a montarlo non è così facile quando sarete certi che tutto è montato correttamente quando vedrete queste linee bene adesso non ci rimane che mettere la rampa questa qua la bocca ad uscita dei missili questa si può mettere in una sola maniera abbiamo questi in tagli qua sotto uno è largo e uno è stretto quindi andiamo a cercarci i pezzi che sono compatibili ecco qui abbiamo largo qui abbiamo lo stretto questo va messo così ecco prendiamo questa ogiva la mettiamo qui e avvitiamo la vite 07 quella più lunga no cosa sto facendo ragazzi lo sapete vi dico una cosa per me io con voi parlo come non dico come in famiglia perché figuratevi la famiglia non ce l'ho ma come se foste i miei amici anche se l'amicizia è una cosa importante però mi avete capito cosa intendo a volte faccio queste sciocchezze come il fatto che stessi montando la vite di qua invece che di qua ma c'è una spiegazione ieri ho fatto 13 video e oggi ne ho fatti 9 in realtà 7 devo farne ancora 2 la uscita 22 e il 23 sempre ovviamente del Mazinga Z ho fatto l'Audi 4 da rally ho fatto la Lancia Stratos da rally ho fatto Robocop la Ford Gran Torino di Starsky Hatch il Mazinga penso che non mi sia dimenticato nulla no ecco per dire quindi ecco scusatemi se qualche volta faccio queste questi errori ecco bene a questo punto non ci rimane che andare a inserire questo se avete delle imperfezioni qui sull'ogiva toglietele perché non farebbe bene la boccola in silicone deve essere perfettamente liscia mi raccomando guardate che bello questo invece è il sinistro e questo che abbiamo appena montato è il destro sì pensavo di aver sbagliato perché qua abbiamo invece l'avambraccio sinistro questo invece è il destro che abbiamo montato adesso allora abbiamo finito il montaggio bene adesso restate con me perché prendo quello che ho montato fino al numero 21 ve lo faccio vedere come meglio riesco perché ci sono parecchi pezzi le due spalle che poi verranno posizionate su questo giunto sferico dentro la bocca del silicone ecco qua guardate che bellezza che bellezza koji kabuto in piedi parte della struttura del torace guardate che bellezza qui sotto abbiamo la membrana per poi l'effetto speciale e poi altre cose che non vi ripeto ad ogni video ogni tanto ve le risparmio siete contenti questo va qui abbiamo koji kabuto che una volta che avremo terminato l'overbuilder andrà all'interno dell'overbuilder con tutta la plancia comandi funzionante tutta illuminata con i reattori dietro che lampeggeranno con luci più intense e meno intensa per diciamo far finta che appunto ci sia un reattore vero le ali dell'overbuilder eccole qui da destra e da sinistra dove all'interno poi ci sarà un micromotorino come quello montato negli spazzoni da denti che permetterà la rotazione delle eliche e sì avete capito bene ovviamente mi rivolgo a quelli che mi vedono per la prima volta le eliche gireranno davvero questi saranno basculanti ho subito preso l'altra parte sbagliata e questa quella lì eccola qui perfetto saranno basculanti così per poter entrare nella testa del Mazinga Z bellissimo ragazzi ma cosa stiamo montando qui le due antenne quelle in metallo queste invece permettono grazie a delle fibre ottiche all'interno e alle punte trasparenti di poter vedere la luce blu del raggio congelante questa è l'altra mascherina vi ho già spiegato la differenza e poi basta c'è quest'altro qui che non è soltanto quello che ci è servito per testare il funzionamento delle luci ma sarà poi il portabatterie definitivo quindi abbiatene ancora più cura che andrà messo all'interno del torace ovviamente connesso a tutti i cavi e che garantirà parte del funzionamento del Mazinga Z perché ci sarà anche un altro pacco batterie alla base del centro ricerche fotoatomiche ci saranno i trimmer le luci saranno trimmate cioè vuol dire che potrete regolare le intensità più forte o più piano bellissimo dei faretti i faretti quelli sotto che puntano verso l'alto del centro di cerche fotoatomiche queste per capirci queste due luci qui saranno trimmate vuol dire che potete regolare l'intensità da meno intensa più intensa rendetevi conto sul lato di qua del centro di cerche fotoatomiche alla base ci saranno due levette che garantiranno questo e permetteranno ci saranno anche degli scompartimenti dove mettere le cose le rampe si apriranno e si chiuderanno dietro poi ci sarà il jet scrandere chiedo scusa il jet il jet scrandere ce l'ho fatta che avrà un'apertura alare se ricordo bene di 60 cm mamma mia ragazzi fantastico bene penso di avervi detto tutto anche di più grazie ragazzi di tutto il canale di Michele sapete che è un canale differente dagli altri non è migliore e spero anche non peggiore semplicemente differente io mi occupo di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini non ho interesse semplicemente a fare video tutorial che tra l'altro io guardo perché mi piacciono molto però io ho fatto questa scelta qui cerco di aiutare le persone che hanno più difficoltà e spero di riuscirci nel mio piccolo non è nulla di così importante però quando leggo i vostri commenti che mi ringraziate bene io di riflesso ringrazio voi per tutto quello che avete permesso fino a oggi e spero anche in futuro di far ottenere al canale grazie a tutti un abbraccio a voi ragazzi a tutti i vostri cari e cari un grande saluto ci vediamo nel prossimo video non mancate perché vado a preparare il numero 22 e il numero 23 ciao